Allora, buonasera dal Salotto Donizetti. Oggi è un altro appuntamento importante con tanti artisti, anche artisti che vengono per la prima volta qui. Anche se io già conosco un po' la loro storia artistica. Allora, intanto Giuseppe, benvenuto. Grazie, Giuliana. Grazie per benvenuto. No, ma figo, sono io sempre che ringrazio perché dovete sapere, amici, che tutti gli artisti che vengono qui al Salotto Donizetti lo fanno in maniera gratuita, quindi è un qualcosa di lodevole e dobbiamo ringraziarli. Allora, Giuseppe, tu sei un attore molto affermato, hai scritto anche delle commedie. Ho studiato? Sì, sì, hai studiato bene. Allora, ci vuoi dire qualcosa di te agli amici? Volevamo dire qualcosa? No, io sono avvocato e ho sempre amato la recitazione, il teatro in modo particolare. Negli ultimi anni mi sono avvicinato moltissimo a alcuni autori, in modo particolare a Pirandello e negli ultimi due anni agli autori della nuova drammaturgia, adesso non vorrei esaltarmi, nuova drammaturgia posta del Duardiano, cioè Enzo Moscato, Mimmo Borrelli e Fortunato Calvino. Stasera porto proprio un pezzo che è stato tratto da partitura di Enzo Moscato, il monologo si intitola Rondò, alcuni lo definiscono Trianon, di Enzo Moscato. È scritto nel solito, fra virgolette, dialetto di Enzo, cioè un dialetto che lui ha modellato a suo uso e consumo, che ha molte espressioni dialettali molto antiche, che ti faccio un esempio, igularria, che è un termine che non si usa più, lui lo usa, però ne usa altri, anche moderni, del dialetto di tutti i giorni, quello che parliamo, dialetto navoletano ovviamente. Allora Giuseppe, questi autori del passato ti hanno colpito, da quello che ho capito, per il modo loro di essere, perché tu hai scelto, insomma hai scelto, ami degli autori, insomma personaggi, un poco particolari, diciamo difficili, ecco. Non è che dico che non sono comprensibili, però ci vuole, come dire, un'apertura e una conoscenza tale da poter, diciamo, capire e percepire quello che questi autori vogliono dire, o sbaglio, o la mia percezione. Sì, hai perfettamente ragione, noi, io, tu, in modo particolare, siamo degli artisti, tu per esempio fai un tipo di musica che non è particolarmente percepibile da parte del pubblico, però la ami, ci metti l'anima in quello che fai e la gente ti capisce perché sei passionale in quello che fai, è la stessa cosa quello che sei. Allora Giuseppe, tu hai portato dei lavori in teatro, che hai scritto tu, vero? E prossimamente cosa porterai? Hai qualcosa già che stai preparando? Sì, abbiamo, io e altri amici della Proloco di Palma, abbiamo reperito un testo sulla vita di San Biagio che è il patrono di Palma Campania, che metteremo in scena a brevissimo. Mi manda un posto per me. Sì, 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 assolutamente. E poi io sto preparando, con la mia compagnia teatrale, sto preparando il berretto a sonagli di Pirandello, in cui io faccio Ciampa, ma ci sono attori nella compagnia, ci sono attori e attrici che vengono dal teatro di Cantropo di Napoli, che anche io frequento, quindi siamo colleghi diciamo. Senti Giuseppe, una curiosità, quando porti in scena questi testi, e ribadisco un po' difficili, non da tutti, cioè tu li vai a ritoccare oppure li porti così come sono stati scritti? Cioè ci metti anche del tuo? Cioè l'adattamento? Sì, l'adattamento certo, però io solitamente, soprattutto quando si parla di autori come Pirandello, per esempio, non tocco nulla, perché è un, anche Edoardo De Filippo, è la stessa cosa. Sono delle costruzioni che devono essere portate così. Sì, talmente perfette che non... Io per questo te lo chiedevo. Sono talmente perfette che se muovi qualcosa rompi tutto. Allora Giuseppe, intanto ti ringrazio per questa tua presenza di oggi, nonostante io ribadisco una cosa, oggi c'è la partita del Napoli, e però tanti amici comunque mi stanno onorando e stanno venendo. Tu te lo meriti. Ti ringrazio, sei gentilissima. Allora ti faccio un augurio per questi prossimi tuoi lavori che metterai in scena. Cose future, insomma, che farai, perché so che pure tu sei un pozzo di idee. E niente, volevo salutare la tua signora che oggi ti ha accompagnato, è una bellissima donna, facci i complimenti, volevamo far vedere la signora, è una bellissima donna. E niente Giuseppe, allora ti ringrazio per la presenza, insomma per tutte queste cose belle che fai. E ti chiedo un'altra cosa, ci autorizzi a mettere questo video in rete? Assolutamente sì. Allora ti ringrazio e amici vi saluto dal saluto Donizetti e Giuseppe. Buona serata. Buona serata. Ciao.